ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video di nintendo spiocchette dunque è passata almeno tre settimane se non quattro quindi un mesetto dall'ultimo video da quando sono tornata dalle vacanze credo proprio di sì e vi ricordate quelle due esche cotolette beh bene non ho trovato un sacco di oggetti ma ne ho trovati a meno uno raro poi gli altri l'ho trovati con i contapassi non è un granché ma in questa versione non si trovano come l'erba gatta che ho trovato oggi sì era questa ne ho trovati a meno sette se non sbaglio no sei se non sbaglio di erba gatta in tutto una sette comunque prima di parlare di questo volevo dirvi se vi sta piacendo comunque la serie di the sims 4 lo so che con la telecamera che ho non registra molto bene il computer però lo schermo del mio computer però abbiate pietà per favore lo dico specialmente per i bimbi minchia che mi sono un po insultando un po per la grafica tempo per il come parlo la grafica della qualità del video per per tante altre cose ma specialmente per come scrivo certe volte io mi ritrovo ma come cavolo scrivi invece di dirmi ehi guarda hai sbagliato sta frase si dice tot così in modo gentilmente uno non si offende e lo ringrazio invece no deve sempre farmi incazzare e io lo devo bloccare è successo oggi per esempio nel quarto episodio di the sims 4 è venuto un po male perché ho dovuto non ho avuto tempo di fare preparare il matrimonio di manuele francesca dei miei due sim poi c'era mia mamma che mi parlava mia nonna che è venuta a trovarmi poi c'era anche mia sorella quindi ho dovuto togliere un po di roba fermarmi spesso e mentre preparavo la parte della matrimonio ho dovuto togliere un paio di cose perché non ho potuto velocizzare perché non so come si velocizza quando sono in vegas pro 10 perché io come programma di editing utilizzo quello e niente non so come fare per migliorare sempre di più fraspo io non riesco a trovarlo nemmeno a comstasia studio 7 non riesco nemmeno anche trovare una cosa che si chiama gba che serve per giocare con i giochi del nintendo ds sul computer e niente pazienza vi ho detto un po di cose o scusate che non c'entrano molto su nintendo specchetti quindi dire di iniziare non sono andata molto avanti ma sono a cari abbastanza dunque non so se questa novità c'era ho cambiato casa sono una stanza giapponese con un tavolo ho messo un letto un ventilatore che presto lo tolgo e un mobiletto giapponese allora sono tutte e due sovrappesi purtroppo i punti di a cari sono questi ah lo muovo spesso lo muovo il nintendo perché sono sul dryato sul letto perché sono abbastanza stanca sono stato in piedi praticamente tutto il giorno risultate care ciao cioppi è arrivato il mio amicino guardate la mia cari ha vinto la coppa nintendo dell'inseguimento e il maestri dell'obbedienza ci mette parecchio purtroppo e pongo rimasto uguale guardate non vado molto avanti ultimamente con nintendo giusto da bere da mangiare faccio quanti passi con a cari e non di più perché non riesco a giocare molto in questi giorni ho ripreso con un mio piccolo diciamo vado in pratica a lavorare non è un vero il proprio lavoro ma ti insegnano a come si può a trovare un lavoro sono nella scuola di villa basse vicino a torino e sentite un attimo il mio amicino dai vi faccio vedere un attimo il mio cucciolo ciao cioppi ecco qui il mio piccolino ci chiama cioppito l'ha dato così mia mamma il nome ciao cioppi carino eh ben tornati nella seconda parte sul mio video di nintendo spucchetto dunque se vi state chiedendo il perché della seconda parte perché ho avuto problemi la scorsa settimana nel registrare il video in cui mi faceva vedere anche uno dei miei gatti che c'erano in camera mia purtroppo non so com'è venuto perché non ho più toccato la telecamera per almeno una settimana intera ma ora ho deciso di farvi vedere un po di roba nuova perché la mia cari ha finalmente vinto la una garetta molto importante ok penso che vada meglio infatti la mia cari ha vinto tutte le gare della coppa nintendo che ci sono la prova del disco l'ha vinta tutta coppa nintendo prova dell'inseguimento coppa nintendo e anche la prova di obbedienza coppa nintendo l'ha vinta proprio dieci minuti fa sono veramente contenta per il risultato che ha avuto la mia cari e questi sono i suoi punti diciamo non esperienza non so i suoi punti diciamo e sono veramente veramente contenta per il risultato di a cari purtroppo non sono molto contenta di pongo perché ancora è lo stesso punto di quando l'ho presa e l'avevo presa se non sbaglio il 17 se non sbaglio di agosto credo agosto e siamo al terzo mese anche lui come a cari è il terzo mese se non sbaglio a cari l'ho presa prima di pensa il primo di luglio luglio agosto settembre no forse quattro mesi o tre mesi cercate di aiutarmi ragazzi perché non mi ricordo purtroppo comunque sia ovviamente scusate ovviamente la mia cari ha vinto una cosa molto importante quando uno vince la coppa nintendo l'adozzo di ogni gara vince un accessorio e lei ha vinto un accessorio molto buffo questi comunque sono i miei oggetti l'erba gatta per sette erbe gatte e l'ho avuta grazie ai contapasti come il pollo e ovviamente i biscotti a sorpresa questi sono i vecchi oggetti che vi ho fatto vedere quando sono tornata dal viaggio ok la cosa più importante questo è il primo oggetto la corona l'ha vinta anche pongo quindi per questo che ce ne sono due poi e questi ci sono gli occhiali che ha vinto acari e poi questi sono i mobili non ne ho molti e non ho fatto vedere anche questo è il collare di acari invece ne ha fatto un sacco di progressi la mia carina e comunque sia vi faccio vedere i contapasti perché oggi ne ho fatti molti sono andata al posto in cui vado sempre a fare qualche piccolo lavoretto abbiamo fatto una bella passeggiata molto lunga di due orette siamo partiti alle 9 qualcosa 9 e mezza siamo arrivati alle 11 un quarto più o meno questi in tutto sono i miei contapasti parecchie e quelli sono i miei soldi poi non vi ho fatto vedere il diario vediamo sono incontri 4 ve l'ho già fatti vedere forse e quelli sono i miei contapasti i miei punti che cavolo dico quelli non sono i contapasti gli altri lo erano perfetto devo poi cambiare la foto perché non è molto carina allora io direi che con il video possiamo anche terminare qui la seconda parte non è un gran che comunque in settimana vedo di portare avanti questo birichino qui di questo cagnolino qui perché pongo oggi mi ha fatto un po' arrabbiare non volevo neanche giocarci adesso ma ho deciso meglio registrare l'ora che sono da sola che sto aspettando l'arrivo di mia mamma e di mia sorella che mia sorella sta per uscire da scuola e niente purtroppo il video è diviso in due parti se non tre la parte in cui stavo facendo la prima parte poi quando vi faccio vedere uno dei miei quattro gatti più questa e niente noi ci vediamo qui spero il prima possibile di farvi vedere altri progressi di pongo così potrei prendere sicuramente un altro cane ad halloween perché diciamo che sono un pochino stufa perché vorrei prendere un altro cane ma non ce la faccio proprio a farvi vincere subito questi birichini le gare comunque sia prima che si fermi da sola la telecamera perché ha dei problemi credo sia la scheda dovremmo riformattarla ma aspetto mio padre che è sua la telecamera e noi ci vediamo qui a un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti